E regà quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars con un content che vi avevo promesso in questo video Infatti se quel video avessero aggiunto i 4000 like avrei continuato ad aprire le uova di questa offerta Sono arrivato infatti in quel video alla skin di Brock, ne abbiamo ancora 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 Con anche Buzz Rosso in fondo, parliamoci chiaro, neanche avrei bisogno di shoppare queste uova Anche perché l'evento l'abbiamo già concluso, però sapete che vabbè le gemme le ho è ok Però a parte questo noi siamo qua per fare il content Dato che avendo appunto in fondo la skin di Buzz Rosso Se noi andiamo nella chance delle uova, andando in fondo in fondo in fondo Abbiamo anche le probabilità delle uova leggendarie e abbiamo il 5% di trovare Buzz Godzilla Rosso Sarebbe incredibile trovarlo e vedere cosa succede se vai a riscattare la skin gratis in fondo Cosa ti dà il suo posto, sempre se ti dà altro In teoria sì dovrebbe esserci una compensazione, ma noi siamo qua apposta per questo Poi si spera, ma a fortuna non è detto che riuscirò nell'intento Da ogni modo vi ricordo prima di iniziare, codice Rax rifondo lo shop per supportarmi su Brawl Stars E mi raccomando anche qua un bel like Se nello scorso video ve ne ho chiesti 4.000 Dai stavolta 5.000 li facciamo In realtà dobbiamo trovare anche la skin di Dynamite per cui speriamo in bene Iniziamo subito 129 gemme che partono così Ragazzi, vabbè ovviamente nel resto delle uova non troverò nulla Mi sa che anche dalle mitiche non dovrebbe esserci proprio nulla Ah peccato epico, intendo a livello di estetica Skin non ce ne dovrebbero essere Beh sicuramente, oh attenzione Dai già leggendario Sarebbe incredibile trovarla fin da subito così ci troviamo il pensiero Anche se comunque devo arrivare in fondo Per cui togliersi il pensiero relativamente Ma attenzione Spike quale Beh Spike Automa, gran bella skin Anche se c'ho Spike Cacatus Spike Cartoon Per quanto bella questa possa essere Mi dispiace Ma non vado a sostituire il buon Spike Cacatus Andiamo avanti Qua siamo sempre Vabbè prossimo drop con i crediti Direi che ci siamo Per andare avanti di fama Super raro Niente Vabbè punti energia comunque vanno sempre benissimo A me quelli servono Poi raga fatemi sapere nei commenti Come siete messi con l'evento del club Io penso che a questo punto Molti di voi già verranno finito In teoria Considerando che io l'avrò finito 5 giorni fa Sì da noi diversi hanno shoppato Ci sta però Immagino che a grandi linee Iniziano Ah ecco intanto Fammi a sottolineare una tracca Vabbè si si da il pin Grazie Fatemi sapere dunque nei commenti Quando andiamo avanti Dai gioco qualcosa di interessante Non dagli epici E poi vi devo dire In realtà forse dai mitici Una skin rara potrebbe ancora mancarmi Non mi ricordo Ma secondo me no Quindi la cosa brutta di sto spacchettamento Che adesso sto spendendo un sacco di gemme Per avere Sì va bene qualche risorsina Più che altro i punti energia Che mi possono servire Però sono tutte gemme buttate Per quello che dico Mi raccomando di like Il content che sto facendo apposta per voi Se non arriviamo almeno a 4.000 like Non lo so Intanto altre 12 finite E soprattutto poi Il bello è che io vorrei trovare la skin di Buzz Poi manco la riesco a trovare Non dico content rovinato Per carità La skin di Buzz rossa Secondo me tra le 3 È quella più bella Per cui ad ogni modo Va bene anche riscattarla in fondo Però il content è il content E noi vogliamo proprio quello Abbiamo il 3% ad ogni modo di trovare uova leggendarie Considerando che la prima c'è già uscita Considerando che erano meno di 100 Potrebbe... Ok mitica Con... Infatti bling Mi sa che le skin non escono qua 3% Considerando che una è già uscita E su meno di 100 Dicevo In teoria un'altra dovrebbe essere garantita Se dovessimo trovarne 3 Sarebbe tanta roba Ok leggendaria Eccola qua Dai gioco Guarda se proprio 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 Eh va benissimo anche trovare la skin di Dire Mike leggendaria Che anche qua comunque Dai Ah Beh è bella eh Perché ti dà bellissima Mannaggia Eh qua Auguri adesso Aspetta va guardiamo un attimo dal catalogo La categoria Max Force Tipo questa BB Furfante È super rara Fatemi controllare un'altra cosa Voglio vedere se tipo questa La possiamo trovare Nei drop leggendari Ah no BB Furfante È nelle uova mitiche Vabbè sì Direi dall'epica a salire La possiamo trovare Per cui Vediamo cosa ci manca Abbiamo lui ovviamente Dai è una macchina Che mi andrebbe comunque benissimo trovarlo Abbiamo Jackie perfora tutto E poi basta Anche Squeak Lo possiamo trovare nei mitici Quindi mi stai dicendo Che se dovesse uscire un altro uovo leggendario O troviamo questa O troviamo questa O troviamo Buzz Io mi auguro di non trovare Jackie Secondo me è quella un po' più sfortunata Tra le tre E toglierei anche il secondo me Cioè nel senso è palese che sia così È quella di rarità più bassa Però dobbiamo sperare che ci sia Questo uovo leggendario E secondo me è molto probabile Che non ci sia Però dai sono fiducioso Ne mancano veramente tante Per cui il gioco potrebbe stupirci Ma questa icona non l'avevo già trovata Perdonami Icona poi Pin Però boh Se me l'ha data evidentemente Mi starò sbagliando con un altro accanto Potrebbe anche essere Epico Vabbè e vinci proprio il nulla Ci sta Dai almeno una skin del mitichino Attenzione Ok Una skin No ancora bling Dai gioco Confido in te Qualcosa di buono Almeno in queste ultime Ok boh Epico niente Con ancora bling Non è ancora finita però Attenzione monete Ancora non è finita Superare con blingettini E ok Ci sono le fazzolette Sì E qua serve la bustata Che è tutto intrecciato Con un altro pacchetto Vabbè andiamo avanti Vediamo un po' Appena c'esce qualcosa di buono Epico Non è qualcosa di buono In questo momento Comunque zitti zitti Dopo la Saturniana 3 Cosa c'è? La solare La solare se non mi sbaglio È l'ultima no? Ah no Era l'ultima la fama solare Sto guardando adesso Ora c'è anche quella meteorica E auguri Vabbè ci può stare Ci può stare Prima o poi raggiungeremo Anche quella probabilmente Qua intanto Io spero sempre Nel miracolo divino Peccato però Eh ma sempre bling Non può essere Sì Dai devo trovare 2-3 skin E mi escono solo bling Sento un po' la puzza di scam Qua gioco E non me la racconti Giusta Dai 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 Ti prego un altro leggendario Ti giuro Non può non darmelo Effettivamente Con un'altra 24 Da aprire Ecco infatti 24 precisa Dai gioco Io vorrei bustare Con i pacchetti Di fazzoletti Quando vediamo Il leggendario Mannaggia Però forse serve La bustata prima Tipo se te li butto Adesso Che succede? Hai bustato questo? Sì Con un raro Ha bustato E niente Non lo so È che le statistiche Sono statistiche Se c'è il 3% Ragazzi Nel senso su 80 Cioè capito no? Può esserci un altro Però non è facile Epichino Con i bling Beh bling me ne sto facendo Un bel po' in realtà Altro epico Con Ok Con pin nuovo Così proprio una porta Con Ah con Godzilla Che spacca tutto Chiaro ovviamente Altro raro Punti energia Combinazioni segrete Giù Giù Su Destra Ovviamente Sinistra Destra Su Che poi questo era giù E ora su sarebbe Esattamente Sinistra 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 Destra Eh no Finita qua Epico con i bling Sennò come in uno degli scorsi video Tutto giù Eh no Proprio perché Le combinazioni non esistono Ultime 12 uova riga O la vola spacca Dai Brawl Stars Fammi fare il mega content Ancestrale Almeno trovare la skin di Dynamics Se proprio 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 Non vogliamo fare La cosa più contenta di tutte Non mi lamenterei anche di quella Nel caso Però prima valla a trovare Se troppo leggendario Ah epico no Peccato Quando ne mancano Mi sa sei Eh se c'ha una Dai super raro Niente Ancora Niente Ultime tre Penso Dai Mi sento di aver buttato Tante di quelle gemme In questo momento Che la metà bastano Dai super raro Forse c'è un'altra Allora Adesso me più probabilmente Se non avete lasciato like È il momento Palesemente boosterete E poi proviamo anche Giù Su Sinistra Destra Ma che Oh c'è una Colpo di scena Non me l'aspettavo Giù Giù Su Su Ok Sinistra Destra Sinistra Destra Sinistra E niente Andate Ah no Ma io non so contare Ma che Vabbè andiamo spediti Ti prego ti prego ti prego No Peccato È ancora blink E mi sa che Anneggia Va bene Non avremmo fatto Il make content Ma siamo comunque Arrivati in fondo Almeno abbiamo Quella che secondo me È anche la colorazione migliore Infatti la vado ad attivare Abbiamo anche il suo pin Chiaramente a tema Ed eccoci qua Abbiamo finito Beh a sto punto L'andiamo anche a provare Una partitozza C'è da dire che adesso Con il fatto che ho tutte Tra le skin Il mio account Dovrebbe avere un po' più di valore Dato che queste skin Non potranno essere shoppabili Dal momento in cui l'evento finirà Quindi Va anche bene così Proviamo a farci una solo Vediamo che succede Che poi potrei fare un'altra cosa Potrei eventualmente Anche farmi due partite Così abbiamo anche Un altro vetto O magari la sculata Sarà dalle uova giornaliere Potrebbe essere Che poi sculata Sì possiamo trovare Dynamike Ormai buzz rosso doppio Per forza di cose Non può più esserci Ma magari neanche adesso Cioè potrebbe anche essere Che anche con la percentuale scritta Ci fosse una sorta di script Ed era comunque impossibile Trovare la skin Ah peccato Non l'ho presa A questo punto però Al Dynamike rosso Si punto Oddio questa dove è uscito Impazzito Però dovrei in teoria Averla io meglio No infatti Oddio non di tanto eh Ma è già quarti Buono Oh attenzione Poi la situazione È abbastanza simpatica Faccio Ah peccato Però sono tranquillo Faccio così Ma No ma ha distrutto Errore di calcolo Mannaggia Vabbè non è un problema Abbiamo il droppettino intanto Che attenzione Sculatina qua Se ma che sia mai Vabbè ci sta Dai facciamocene un'altra Vediamo nell'ovetto Che succede Che comunque Zitti zitti Abbiamo ancora 20 giorni di tempo Prima che finisca l'evento Per cui dai Almeno la skin di Dynamike Si piglia bene Potrebbe anche uscirmi Ma intanto vediamo In questo video Qua non so sinceramente Se stare vicino a loro Per prendere la super E per ora mi sta bene così Anche perché in teoria Qua ci sta il gadget Usato bene Io ho farmato Una buona parte Della mia super Loro perché si fightano Tra loro E mi sta bene Qua Senti amico mio Ok Ok Charlie Mi piace Sì ok Stai qua Va benissimo Non c'è problema Ma sai che in realtà Io Eh no però ha preso lei la super Non lo so cosa conviene fare Perché con la super Forse non riesco neanche A finirla Forse si proviamoci Ok buona Vabbè mi hai chiuso Imbozzolato Te ne scappi Ha senso Però io ho preso un'altra super In tutto questo E ti uso in questo modo E in teoria Adesso non potevi fare niente E per forza Una certa poi Beh non è male E niente Ma ha distrutto kit La fine Vabbè abbiamo Lo metto A noi Importava arrivare A questo punto Sarà Superaro Non gli avrei detto Raro Epico Attenzione Ma si trova Non si è strutturato Un leggendario così Come dire Dai va bene Ragazzi Spero che in questo video Vi sia piaciuto Se così fosse per a quando Un bel like Iscrizione Con scamparellata Tattica Noi come sempre Ci becchiamo alla prossima Con un nuovo video Bellissima Noi come sempre